Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. In questa parte della trasmissione continueremo il discorso della volta scorsa relativo alla contemplazione. Prima naturalmente vi ricordo che sabato 24 settembre, vado un po' a memoria, comunque quel sabato, si terrà presso il Bosco Sacro di Jesolo il rito dell'equinozio d'autunno. Per cui l'appuntamento per tutti i pagani è presso il Bosco Sacro di Jesolo, sabato 24 settembre. Abbiamo appena tenuto, molto tempo fa, sull'altipiano di Asiago, il rito della Deuotio che teniamo ogni agosto. Mi è arrivato adesso in questo momento che molte persone hanno desistito dal venire dal maltempo, pensando che il rito non venisse celebrato, non venisse tenuto. In realtà il rito è stato celebrato, è stato tenuto e tutto sommato il tempo non è neanche stato così brutto come da altre parti si poteva vedere. Spiace per le persone che non sono venute, però noi i riti li celebriamo sempre, in grande o in piccolo che sia. Certamente esistono anche delle condizioni che potrebbero impedirci di celebrare il rito, oppure delle condizioni che ci sconsigliano di fare certe cose. Ma se le condizioni ci sconsigliano di fare quelle cose, quelle cose non le facciamo. Però il rito lo celebriamo lo stesso, perché fa parte di quello che è il nostro essere persone religiose, cioè quell'insieme che ci porta a vedere il mondo come sacro, come vivente e come manifestazione di intelligenza che agisce nei nostri confronti. Pertanto i riti noi li teniamo sempre. Spiace soltanto che le persone siano fermate dalle condizioni meteorologiche. Però vi ricordo che in fondo questa è anche la questione della vita. Cioè la vita ci pone sempre davanti a dei problemi e ci costringe sempre ad organizzarci nei confronti di quei problemi. E allora, se la nostra vita ci pone dei problemi, cioè se nella nostra vita ci sono dei problemi, perché noi non dobbiamo organizzarci per risolverli, per superarli? Perché dobbiamo fermarci davanti a quei problemi? E' chiaro che si potrebbe correre, però se io sono con le gambe nell'acqua la mia corsa è diversa, è più lenta. Questo non significa che io non debba procedere o non debba modificare il mio stato. Ecco, questa in realtà che abbiamo avuto sull'altipiano di Asiago è una lezione di vita. Cioè la vita ha sempre dei problemi. La vita ci pone davanti a delle contraddizioni. La vita ci impone di affrontare quanto noi incontriamo. Ma se noi siamo degli dèi che manifestano noi stessi, noi ci attrezziamo per affrontare al meglio le condizioni della vita. Pertanto ci dispiace per le persone che non sono venute per questioni di tempo. Chiaramente esistono le persone che non sono arrivate per altre questioni. Le persone che hanno la schiena a pezzi, per esempio. Le persone che sono di turno sul lavoro. Le persone che hanno delle incombenze che non possono lasciare là. Certamente ci sono state altre cause che hanno indotto le persone a non venire. Però, quelle persone che non sono venute per questioni solo di tempo, per questioni solo meteorologiche, secondo me, dal mio punto di vista, dal punto di vista della stragoneria in generale, hanno perso un'occasione per riaffermare se stesse davanti a delle condizioni avverse. Al contrario, le persone che sono venute, si sono attrezzate di capauei, si sono attrezzate di ombrelli, si sono attrezzate di mantelle, si sono attrezzate di quanto serviva, di scarpe a tenuta d'acqua, in fondo non siamo così poveri da non averle, e hanno camminato, hanno fatto il rito, il fuoco è stato acceso, la Deuotio è stata recitata, noi stessi ci siamo manifestati davanti al mondo, siamo tornati e abbiamo festeggiato, come facciamo di solito, mangiando tutti assieme e offrendo anche il nostro bicchiere agli dei. ecco, tutto qua, cioè le persone hanno affrontato le condizioni e le hanno superte, chiaramente esistono delle persone che non sono venute proprio per cause oggettive, cioè le persone che stavano male, le persone che avevano delle incombenze, le persone che non potevano essere in ferie per permettere ad altre di fare le ferie, chiaramente questo è un altro discorso ancora, però, torno a ripetere, spiace per quelle persone che avrebbero potuto essere e che non c'erano. Ricordatevi, nel film Il Tredicesimo Guerriero, c'è appunto la preghiera del musulmano, la preghiera del protagonista del film, che fa il tredicesimo guerriero, appunto il musulmano, l'uomo meridionale, che prima dell'ultimo combattimento dice e chiede scusa al suo Dio, ma noi dovremmo chiederlo scusa alla vita in realtà, per non aver pensato tutte le cose che avremmo dovuto pensare, per non aver detto tutte le cose che avremmo dovuto dire e per non aver fatto tutte le cose che avremmo voluto fare. Perché ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa, non è che rinunciamo e poi basta. La rinuncia a fare o a non fare, la rinuncia a fare qualcosa, è comunque un fare, è comunque un'azione che si sedimenta dentro di noi. Se oggi ero timoroso davanti a qualcosa e mi sono tirato indietro, domani sarà più difficile per me affrontare una cosa simile. Se invece oggi non mi sono tirato indietro, domani mi sarà più facile affrontare una cosa simile, perché ho accumulato esperienza con cui affrontarla. Per cui ricordatevi sempre, fare o non fare è sempre un fare. sta a noi scegliere cosa ci conviene in quel momento e ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa, uccidiamo qualcosa dentro di noi. Ogni volta che noi agiamo, costruiamo qualcosa dentro di noi. Chiaramente può anche essere il contrario. Ogni volta che noi rinunciamo a cose distruttive, ci diamo delle possibilità di costruirci. Ogni volta che noi accettiamo di soggettivare delle cose distruttive, rinunciamo a costruirci. Chiaramente c'è sempre una scelta, c'è un intento, una direzione, delle scelte da fare. Però questa è la vita. E la vita è azione o non azione. Che sia azione, che sia non azione, sedimentiamo sempre qualcosa dentro di noi. Questo lo dico per le persone che hanno rinunciato a partecipare al rito. Altre cose. Ancora vi ricordo sempre il 4 settembre, la festa dei Veneti, che si tiene a Cittadella. Questo è un discorso più di Francesco, comunque che non da parte mia, anche se chiaramente io parteciperò alla festa. Pertanto appuntamento, 4 settembre, la Cittadella, e poi 24 settembre, il rito dell'equinozio d'autunno. Bene, ne approfittiamo allora per continuare, per continuare il discorso che abbiamo fatto, in relazione alla contemplazione. La contemplazione, vi ricordo ancora, che è l'arte attraverso il quale il pagano e solo i pagani riconoscono nel mondo che ci sta attorno, nel mondo in cui viviamo, intelligenza, progetto, scopo, nus, se volete anima, se volete trasformazione, chiamatelo come volete. Comunque, solo il pagano è colui che riconosce di essere all'interno di un messo che sceglie e che progetta insieme a lui, solo il pagano. E la contemplazione può essere fatta proprio soltanto dal pagano, perché soltanto il pagano può riuscire a percepire, attraverso le proprie emozioni, le informazioni, i dati, e trasferirli attraverso l'intuizione, alla propria ragione, dati e informazioni che provengono dal mondo esterno, dagli enti del mondo e da chi nel mondo agisce, che però è separato da noi perché la ragione non lo riconosce come intelligente, non lo riconosce portatore di nus, non lo riconosce portatore di sapere e conoscenza. Questo vale per le piante, vale per gli animali, vale per tutta la terra stessa, vale per il sole, vale per ogni altro ente. Ebbene, la contemplazione, come ho già detto l'altra volta, ci porta a modificare il nostro modo di vedere il mondo. E adesso, siccome ormai a una certa età leggere i caratteri piccoli è difficile, è meglio che cominci con l'inforcare gli occhiali, non ho l'abitudine purtroppo di inforcare gli occhiali perché ci vedo benissimo, però quando leggo il carattere piccolo comincio ad averne un po' bisogno. Allora, dove eravamo rimasti? Stare delle mezze ore, seduti davanti ad un oggetto, l'ideale per contemplare una pianta. Una pianta d'appartamento o un piccolo albero è viva e cosciente, contempla a sua volta ha volontà e intuizione e ha l'innegabile vantaggio di stare ferma. Si può contemplare il sole ma brucia gli occhi, si può contemplare la luna ma le sue fasi la rendono instabile, si possono contemplare le nubi ma spesso stare a testa in su stanca, si può farlo con un animale ma si muove, si può farlo con l'acqua ma si hanno meno risposte, si può farlo col fuoco ma col fuoco è meglio farlo durante i riti religiosi. Stare delle mezze ore davanti ad un oggetto, metterlo fuori fuoco chiudendo il dialogo interno e osservare la sua sfocatura senza descriverlo. Ci vogliono alcuni mesi per predisporre la struttura fisica e scoprirsi a contemplare quasi naturalmente nella propria attività quotidiana. Nel frattempo si fa una buona ginnastica ortotica. Si ristruttura la ragione predisponendola all'arrivo di nuovi fenomeni sia per gli aspetti inusuali dell'oggetto contemplato sia per la manifestazione dell'intuizione alla quale deve cedere il passo. L'intuizione non si manifesta mai durante la contemplazione e pertanto non illudetevi di diventare padroni di un potere superiore. L'intuizione giunge quando una serie di situazioni quali la predisposizione soggettiva l'impellenza emotiva le condizioni della vita le esigenze dell'azione soggettiva eccetera vengono a manifestarsi e coincidere con uno stato contemplativo naturale dell'individuo. Qui è da fare un discorso abbastanza vasto cioè in stregoneria cosa succede quando si praticano le tecniche del crociolo dello stregone succede un fenomeno del genere inizialmente c'è un'opposizione da parte della ragione al fatto che la persona pratichi questo tipo di tecniche c'è un'opposizione che si manifesta all'interno dell'individuo creando una specie di stato d'ansia che non è vera e propria ansia come manifestazione patologica però è un timore un timore che prende l'individuo quando nel praticare quelle tecniche comincia non so tipo a sospendere il dialogo interno a un certo punto per qualche secondo non pensa assolutamente a niente ecco in quel momento la ragione trasmette all'individuo una specie di timor panico che non è pan però è una specie di timore e questo vale anche per la contemplazione quando voi vi esercitate ad osservare un albero per esempio incrociate gli occhi sfocate la figura bloccate il dialogo interno vi mettete calmi e rilassati e a un certo punto da quell'albero ricevete delle sensazioni viventi cioè emozioni vive emozioni modulate che la ragione comincia a percepire come messaggi che arrivano immediatamente vi si ferma il respiro e tornate indietro cioè esiste questa forma di timore che vi porta a tornare indietro e questa è la prima reazione che c'è da parte della ragione il problema chiamiamolo decontemplatore comunque di chi pratica il crocello lo stregone qual è è quello di dire se io dall'albero in questo stato psichico emotivo di contemplazione ho ricevuto qualche cosa sicuramente se mi impegno all'ennesima potenza riceverò qualcosa di infinitamente di più ecco questo è uno degli errori che fanno le persone quando praticano questo tipo di tecniche perché è un errore perché l'elemento su cui loro devono poggiare l'attenzione non è sulla tecnica ma è sulla vita sulla vita quotidiana cioè quando io pratico la contemplazione la tecnica della contemplazione il mio scopo non è quello di discutere di filosofia trascendentale con gli alberi ma il mio scopo è quello di affrontare al meglio la mia esistenza quando io pratico la contemplazione creo dentro di me uno stato psichico emotivo di sospensione e di fermare quella che è la mia proiezione sugli oggetti del mondo per cui anche sui fenomeni che mi arrivano dal mondo questo significa che io apro dentro di me fra la parte esterna e la parte interna del cervello un canale di comunicazione questo a me discute di filosofia con un pioppo non è che mi interessi ma non perché non mi interessa la faccenda ma perché un pioppo ha una visione della vita una visione della realtà che è propria del pioppo non ha nessun legamento con quello dell'essere umano però esistono delle condizioni di vita ed esistono delle condizioni di esistenza che sono comuni agli esseri umani o agli esseri pioppo per esempio cioè esiste una comunicazione esistono delle forze esistono dei filamenti che attraversano tutti i viventi e ogni volta che un vivente ha delle necessità quel vivente manda le sue emozioni manda i suoi filamenti fa correre le sue necessità sopra chiamiamoli i fili della vita e i fili della vita sono i fili delle emozioni se dentro di me si apre quel canale io non arriverò mai a discutere di filosofia trascendentale con il pioppo però riesco a soggettivare quelli che sono i bisogni dell'oggettività ma attenzione se io apro i miei canali è soggettivo i bisogni dell'oggettività io contemplo l'oggettività il pioppo per esempio ma il pioppo contempla me la sua intelligenza sta contemplando me il canale che io ho aperto fra la parte esterna e la parte interna del mio cervello mi permette di percepire le sensazioni e le emozioni del pioppo quel quale non me ne frega niente discute di filosofia trascendentale ma io costruisco i legamenti empatici fra me e gli oggetti del mondo e quando io ho delle necessità per dei fenomeni che io non percepisco che per me non sono chiari attenzione il pioppo si attiva gli oggetti del mondo si attivano perché io ho i canali delle emozioni aperte i segnali arrivano e se io ho i canali delle emozioni aperte perché mi sono addestrato a contemplare io percepisco ciò che dal mondo mi arriva e lo trasformo in pensieri la mia ragione lo trasforma in pensato in idee in pruriti può cascare quel masso della montagna dentro di me nascono delle urgenze nascono delle necessità di correre magari improvvisamente mi sono arrapato ho deciso che devo arrivare giusto a casa in fretta perché c'è mia moglie che mi aspetta c'entra niente stava cadendo un masso delle montagne cioè in pratica tutti quelli che sono i segnali del mondo si trasformano vengono percepiti dentro di noi e vengono trasmessi dalla parte interna del cervello alla parte esterna mediante tutta una serie di collegamenti che sono stati aperti attraverso la pratica della contemplazione e la pratica della meditazione ma quella sensazione iniziale che io ho avuto perché mi stavo stavo contemplando quel pioppo e da quel pioppo a un certo punto ho avuto la sensazione che delle parole mi arrivassero delle cose che io riuscivo a capire non ci sono riuscito a capire però ho avuto la sensazione per un attimo di riuscire a capirle bene quella è la sensazione che il pioppo mi stava contemplando e che io ho aperto i canali da dentro di me a fuori di me ora io vi faccio l'esempio del pioppo ma voi provatevi a pensare ad una persona che può aprire i canali fra sé e tutti gli oggetti del mondo chiaramente è una cosa completamente diversa da tutto quello che noi possiamo inventare ma questo non ti dà il potere non ti dà la capacità di essere padrone delle cose ma ti dà la capacità di soggettivare ciò che sono i bisogni del mondo cioè diventi parte di quello che è il mondo e allora torniamo al discorso di Galimberti oggi letto da Francesco dove noi siamo individui sociali e siamo individui della natura ma lo siamo nella misura in cui viviamo empaticamente con la società civile in cui viviamo e con la società della natura in cui viviamo viviamo in simbiosi perché io è vero soggettivo i bisogni del mondo io mi incazzo per questioni di ingiustizia io mi incazzo quando i più deboli vengono offesi in maniera vigliarca ma anche il mondo percepisce quello che da me esce ed è questo il vero potere alla fine della stregoneria il vero potere della stregoneria non è quello che vi fa il colpo di bacchetta magica o che vi fa guarire dalla lebra o che ti fa fermati vento perché mi so il parono queste sono le cazzate il potere della stregoneria è la capacità di soggettivare ciò che ti arriva nel mondo però provate un attimo solo a pensare se una persona è in grado di fare questo quali saranno le scelte nella vita quotidiana che può fare una persona così provate un po' a rifletterci e riuscirete a capire che cos'è il potere della stregoneria che non è fermati vento colpi di bacchetta magica o sbattere le ali per volare su una scopa è qualcosa di infinitamente ma infinitamente più grande andiamo avanti con la contemplazione va queste situazioni si possono riassumere col nome di stato di necessità soggettivo gli effetti della contemplazione si esprimono nel vivere per sfida uno la nostra ragione non è padrona del nostro intuire due le nostre tensioni i nostri bisogni i nostri stati di necessità emotiva sono espressi sia nella ragione che in tutto noi stessi terzo nello stato di necessità l'individuo si esprime con i mezzi che ha forciato l'intuizione può tentare di esprimarsi ma deve trovare il varco per superare la barriera della ragione e una ragione duttile capace di coglierla e riconoscere la necessità di accoglierla può favorire lo sviluppo dell'individuo una ragione statica una ragione bloccata blocca l'intuizione e impedisce l'intuizione di emergere nella coscienza della persona 4 lo stato di necessità crea nella persona uno stato d'ansia questo stato d'ansia può canalizzare che non è l'ansia della ragione che impedisce le persone iniziali ma è un altro stato d'ansia lo stato di necessità crea nella persona uno stato d'ansia questo stato d'ansia può canalizzare le capacità della persona attrezzata o può allontanare la persona non attrezzata dall'affrontare lo stato di necessità che crea ansia in quel momento che l'individuo se ne renda conto o meno a a sospeso il dialogo interno b concentrato tutto se stesso sul proprio stato di necessità c manifesta bisogni tensioni e intento relativo ai problemi d questa tensione emotiva unita alla pratica della contemplazione permette di aprire la breccia della sua intuizione il vivere per sfida sottoponendo l'individuo alle tensioni della contraddizione estrema permette un arrivo continuo di intuizioni intuire diventa così pratica quotidiana bagliori che giungono continuamente alla ragione l'intuizione può essere o un messaggio proveniente dal mondo esterno altre volontà o emergere dall'individuo dall'interno memoria di specie o esperienze dimenticate comunque sempre dalla parte più interna del cervello se non fosse fisiologica diremmo che emerge dall'inconscio per concludere la contemplazione e l'attività attraverso la quale ci si predispone ad intuire il divino che ci circonda attenzione ricordiamo che stiamo parlando dell'essere umano che si attrezza per svilupparsi come essere della natura non stiamo parlando dell'essere umano che si attrezza per vivere nel sistema sociale umano in Italia nel 2003 perché ricordo questo perché la contemplazione attrezza l'essere umano in quanto essere della natura lo porta a riprendersi in mano lo sviluppo in quanto essere della natura percependo nuovi e diversi fenomeni con i quali confermiamo una diversa descrizione del mondo l'azione quale manifestazione dell'intuire non è considerato un modo naturale nemmeno possibile all'interno del sistema sociale quando si intuisce si diranno cose e si trasmettono messaggi incomprensibili per la maggior parte delle persone si esprimeranno bisogni e desideri per cui molte persone che ci stanno attorno diranno non ti capisco solo alcuni aspetti saranno afferrati da persone che hanno forme automatiche o naturali di contemplazione ricordate che chi non contempla è cieco nei confronti di molti fenomeni e di molti meccanismi che chi contempla trova ovvi normali e direi naturali come si ovvia all'incomprensione nel sistema sociale nei confronti dei contemplatori innanzitutto attraverso la meditazione e la pratica diventare abili con le parole ricordate il dibattito che abbiamo fatto sulla meditazione il dibattito che abbiamo fatto sulla meditazione diceva che la meditazione è l'arte attraverso la quale noi impariamo a descrivere in maniera profonda e sistematica gli oggetti o le sensazioni o le situazioni che noi viviamo e dare spiegazione mediante le parole cioè la meditazione è l'arte dell'uso della ragione l'arte dell'uso delle parole per comunicare questo abbiamo detto pertanto innanzitutto attraverso la meditazione e la pratica diventare abili con le parole e con la descrizione della ragione diventare il più abili possibile nell'esposizione di principi e di concetti però questo se non è ben calibrato può produrre delle reazioni nelle persone che ci stanno attorno si sentono prevaricate perché non hanno argomenti e strumenti con cui farci fronte in secondo luogo attraverso la pratica della foglia controllata che tratteremo quando parleremo della vita nel mondo sociale umano c'è un altro modo di comportarsi ma è follia rivoluzionare il sistema di pensiero umano facendo sentire inadeguati fuori posto chi non contempla ma questo è un altro discorso ed è relativo agli intenti soggettivi del nostro vivere per sfida bene questo era quanto era stato fatto durante il dibattito dopodiché cosa avviene dopodiché avviene che è necessario precisare il discorso della contemplazione e questo ve l'ho già letto ve l'ho già letto in una situazione diversa sulla tecnica della contemplazione comunque la fine facciamo anche oggi perché tanto ripassare come si contempla penso che sia funzionale per tutte le persone la contemplazione è una pratica esclusiva pagana politeista nell'uso dei sensi finalizzata a penetrare il mondo nel quale viviamo contemplare è finalizzato a organizzare noi stessi al fine di riconoscere nell'oggetto sul quale poggiamo i sensi concentrano noi stessi le nostre stesse tensioni e i nostri stessi bisogni attraverso la messa a fuoco di fenomeni inusuali con cui l'oggetto contemplato si presenta a noi prendiamo ad esempio un falò contemplare un falò e questo lo facevamo nel rito dell'equinozio d'autunno quest'anno il rito dell'equinozio d'autunno sarà organizzato da Francesco pertanto io intervengo se intervengo intervengo in maniera assolutamente periferica per cui non so se ci sarà la contemplazione comunque ci si siede in una certa distanza del fuoco in modo che il fumo non disturbi la concentrazione e ci si rilassa e si sceglie il senso attraverso il quale effettuare la contemplazione nel momento che si tratta di un fuoco possiamo eliminare immediatamente i sensi del tatto del gusto e dell'olfatto questi sensi li usiamo per altri tipi di contemplazione possiamo scegliere la vista o l'udito se scegliamo la vista è necessario sfocare gli occhi se scegliamo l'udito non è necessario alterarlo ascoltare la voce del fuoco non rientra nell'uso comune della ragione guardare il fuoco rientra nell'uso comune della ragione se si decide di contemplare con l'udito è necessario chiudere gli occhi in modo che la vista non influenzi quanto si ode ora parliamo solo dell'uso della vista suocare gli occhi si può fare in tre modi incrociare gli occhi sdoppiando il falò e mettere a fuoco la propria attenzione in mezzo ai due falò questa pratica è la più semplice si può focalizzare la vista su un punto intermedio fra il veggente e il falò in cui non c'è niente mantenendo l'attenzione sul fuoco è una pratica abbastanza difficile puntare la vista su un punto che non ha nulla da vedere il terzo modo è tirare indietro lo sguardo facendo pressione al centro della fronte l'importante è che l'attenzione rimanga sul falò mentre le immagini che noi abbiamo siano diverse da quelle usuali a questo punto si fa il vuoto nella mente si blocca il dialogo interno l'unica cosa che per noi esiste è il falò che lo guardiamo in maniera diversa dal solito ma senza usare parole per descrivere quanto vediamo per controllare lo sforzo è necessario giocare sulla respirazione a ritmarla o più veloce o più lentamente al fine di aiutarci a mantenere al silenzio il dialogo interno in questo caso si avrà un doppio uso dell'attenzione da un lato attraverso gli occhi sarà concentrata sul fuoco attraverso i nostri sforzi interni sarà concentrata sul nostro respiro con un po' di esercizio la nostra attenzione dovrebbe armonizzarsi fra attenzione sul fuoco attenzione dentro di noi e l'attenzione del fuoco su di noi se si mantiene questo stato per un certo tempo si esce dalla dimensione della ragione e si ha una percezione diversa della realtà si entra in uno stato psichico attraverso il quale si può entrare in mondi diversi o mondi silenziosi del momento che noi non possiamo usare la ragione per descrivere quello che succede del momento che la ragione ignora quanto sta succedendo anche se tenta di introdurci uno stato da ansia l'unica cosa reale sono le variazioni dello stato emozionale che subiamo tolta l'attività della ragione che tenta di incuterci paura cosa che dovremmo già aver superato con i dibattiti precedenti le nostre emozioni sono quelle che ci possono descrivere quello che percepiamo le nostre emozioni entrano in sintonia con le voci degli dei nella figura degli oggetti del mondo che assistono alla nostra uscita dalla ragione e nella figura di coloro che abbiamo chiamato mentre con i suoni manifestavamo il nostro intento questo fa parte del rito dell'equinozio d'autunno non vi preoccupate per gli spiriti neri perché l'energia dispersa da un cacciatore di conoscenza da una persona che usa la propria volontà per uscire dalla ragione li tiene lontani loro si avvicinano quando l'uscita della ragione della persona è casuale o accidentale il percepire qualche cosa in ogni caso non è importante è importante che noi attraverso la contemplazione si predisponga il nostro corpo la nostra ragione a non temere l'arrivo dell'intuizione in pratica prepariamo la ragione ad aprirsi a situazioni diverse a cose delle quali ella non ha parole per descrivere si tratta appunto di entrare nei mondi silenziosi questa pratica con le sue variazioni può essere usata sia per ascoltare le correnti vegetative e allora si punta l'attenzione su quanto avviene dentro di noi si usa anche per il sognare cercando di mettere l'attenzione su un'immagine richiamata alla mente delle mani per esempio che si vuole trovare nel sogno tutto questo non fa altro che predisporre noi stessi ad accogliere l'intuizione e quanto di diverso dal mondo emerge noi ci apriamo all'universo il nostro vivere per sfida selezionerà quanto dall'universo giunge a noi perché noi daremo una direzione alla necessità del nostro intuire che selezionerà l'intuizione attraverso la nostra volontà sovrapposta alla nostra necessità la contemplazione è un mezzo che serve per forgiare noi stessi la si può usare quotidianamente per una trasformazione sistematica della nostra capacità di percepire il mondo forzare noi stessi in attività di contemplazione permette una maggiore elasticità mentale nella vita quotidiana contemplare è l'opposto di pregare mentre pregare rattrappisce l'individuo su se stesso il contemplare lo dilata insegnate i vostri figli a contemplare e saranno maggiormente attrezzati per comprendere il mondo che ci circonda e per agire in sintonia con esso in pratica nel riconoscere la qualità di un oggetto noi poniamo l'attenzione concentrata attraverso i nostri sensi su aspetti inusuali dell'oggetto in quel momento l'oggetto per noi esce dalla descrizione usuale che ne facciamo per assumere un diverso ruolo nel nostro pensato nella nostra ragione questo produce un altro aspetto che viene sottovalutato dal contemplatore nel momento stesso in cui l'individuo pone la sua attenzione su fenomeni inusuali dell'oggetto contemplato altro non fa che costruire un'assonanza fra quel fenomeno che emerge dentro di lui col fenomeno che percepisce dall'oggetto contemplato solo che egli non contempla anche se lo crede l'oggetto nella forma e nella rappresentazione con cui la ragione usualmente lo descrive ma descrive cose inusuali che altro non sono che rappresentazione delle tensioni con cui l'oggetto si presenta le tensioni dell'oggetto contemplato si fondono con le medesime tensioni del contemplatore così che il contemplatore manifesta nei confronti dell'oggetto le stesse tensioni che percepisce dall'oggetto stesso e il contemplato contempla il contemplatore e le tensioni che si fondono contemplano entrambi la scoperta da parte del contemplatore che le tensioni abbiano chiamato alla fusione simbiotica contemplatore ed oggetto contemplato che contempla porta l'individuo a riconoscere gli dei del mondo partendo dal riconoscimento che le tensioni che si sono fuse in quella contemplazione altro non sono che aspetti dello stesso Dio degli stessi dei che si esprimono nel contemplatore e nell'oggetto contemplato che contempla a sua volta inizialmente è il soggetto che chiama se stesso contemplatore che sceglie dove e quando contemplare solo che il contemplare apre dentro al soggetto che contempla una voglia di contemplare una necessità di contemplare il mondo e dopo una certa pratica il contemplatore diventa parte automatica del modo con cui il contemplatore si relaziona col mondo quando il contemplatore diventa un'attività soggettiva dell'individuo non solo il mondo chiama il contemplatore a contemplarlo attraverso la sua contemplazione la contemplazione dei soggetti del mondo nei confronti del contemplatore ma le stesse tensioni della vita chiamano contemplatore e contemplato a contemplarsi reciprocamente in modo da fondere le relative tensioni il soggetto contempla il mondo perché gli stessi dei emersi dal soggetto e presenti nel mondo hanno chiamato entrambi a fondere le loro tensioni che se questa fusione è stata sollecitata anche se questa fusione è stata sollecitata dal contemplatore essere umano o dall'oggetto che contempla a sua volta perché le tensioni chiamino contemplatore e contemplato è necessario che il contemplatore e contemplato siano in grado di essere sensibili alla chiamata sappiano cioè contemplare riconoscere le tensioni soggettive dell'oggetto contemplato il passaggio da consapevolezza di contemplare alla consapevolezza di essere contemplati dall'oggetto contemplato cioè la certezza emozionale è il primo passo per razionalizzare la propria collocazione soggettiva all'interno di un mondo di oggetti che contemplano il loro mondo attraverso la loro volontà questo al di là dei sensi che privilegiamo nella contemplazione tutto questo discorso per dire è che esiste una fase nella pratica della contemplazione in quanto l'individuo che si è seduto a contemplare quel bellissimo pioppo che gli sta davanti si accorge di essere contemplato a sua volta dal pioppo e si accorge che le sue tensioni una parte delle sue tensioni emotive si fondono con le tensioni emotive del pioppo attenzione le tensioni emotive non sono manifestazioni dei soggetti che le emanano ma hanno a loro volta una loro intelligenza un loro progetto e un loro scopo e più va avanti la contemplazione e più le tensioni stesse chiamano contemplato e contemplatore a contemplarsi a vicenda quando dico che gli dei si alimentano degli oggetti del mondo e gli oggetti del mondo si alimentano trasformandosi in dei diventando dei e attraverso gli dei sto parlando esattamente di questa relazione questo al di là dei sensi che privilegiamo nella contemplazione il passaggio successivo è il contemplare la tensione al di fuori dell'oggetto che manifesta quella tensione la tensione come oggetto in sé e in quel momento avete individuato e state contemplando gli dei in sé i soggetti manifestano delle azioni all'interno di una contraddizione le azioni che manifestano sono l'espressione soggettiva delle tensioni che vivono in quella contraddizione noi possiamo sia contemplare il soggetto che compie le azioni e osservarne le tensioni possiamo osservare le azioni e individuare le tensioni ignorando il soggetto che queste attraversano oppure individuare le tensioni e data un'oggettività in cui si manifestano intuire le azioni che queste produrranno in pratica le tensioni sono oggettività che si esprimono nei singoli soggetti e i soggetti le manifestano mediante azioni date la loro volontà espressa nei loro processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive questo è il motivo per esempio per cui ho dato dell'idiota al vescovo di Padova perché è un truffatore perché nega la proprietà degli oggetti del mondo di manifestare se stessi cioè nega il divino degli oggetti del mondo che è un elemento lapalissiano che accade sotto i loro occhi per manifestare la truffa del mago di Barman per televisione che mentre il mago di Barman per televisione vendeva le pozioni per curare il cancro il vescovo di Padova vende il dio creatore e la creazione come una pozione per far fessi le persone non c'è esattamente nessuna differenza le tensioni che si manifestano nell'esistenza sono il vero oggetto della contemplazione si assiste ad una trasformazione soggettiva all'interno del contemplare che iniziato dalla contemplazione di una forma descritta dalla ragione viene spostata su aspetti inusuali degli oggetti dapprima per cogliere gli aspetti inusuali degli oggetti e poi per cogliere le tensioni che si manifestano prima attraverso gli oggetti e poi in se stesse le tensioni che attraversano l'universo contemplando l'individuo si trasforma la sua trasformazione soggettiva sposta la sua attenzione nella contemplazione di un rapporto dialettico di modificazione oggetto contemplato e necessità soggettive all'interno del suo vivere per sfida noi pratichiamo la contemplazione seduti comodi e concentrando la nostra attenzione sull'oggetto contemplato quando si acquisisce l'abitudine a contemplare questa abitudine si trasferisce come patrimonio dell'individuo come abitudine a frenare in un'automobile quando le luci della macchina che precede diventano rosse nel contemplatore ma il contemplatore non è sempre seduto comodo con una birra fissare la sua attenzione sul cielo sulle nubi su un albero su un falò il contemplatore è un pagano politeista che vive per sfida e può trovarsi a contemplare un concetto astratto di filosofia una situazione sociale una questione di lavoro una questione di rapporti interpersonali può contemplare se stesso e le sue inadeguatezze eccetera 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 può intuire aspetti situazioni o cose che nemmeno si aspettava non esistono non esistono solo gli aspetti inusuali dell'albero del cielo delle nubi esistono gli aspetti inusuali della nostra vita quotidiana che noi possiamo contemplare vivendo per sfida le tensioni che vi concorrono le tensioni che attraversano tutti i soggetti nelle varie relazioni del vivere per sfida il contemplatore è in grado di cogliere l'aspetto inusuale del suo vivere per sfida e metti in atto delle strategie che sono in grado di agire direttamente sulle tensioni del vivere per sfida le tensioni che attraversano gli oggetti e che sollecino la nostra attenzione attenzione altro non sono che gli dei che comunicano al Dio che cresce dentro di noi e che trasmette questa comunicazione alla ragione sotto forma di sensazione desiderio bisogno al di là che la ragione comprenda l'origine della sensazione del desiderio o del bisogno e che ne proietta su quel desiderio o quel bisogno le sue illusioni o le sue freneticazioni quegli dei con i quali noi possiamo costruire immediatamente delle relazioni e sui quali possiamo agire affinché il nostro vivere per sfida volga a nostro favore il contemplare è un uso dei sensi proprio del pagano politeista che concepisce la propria esistenza in quanto immerso in un immenso crogiolo di dei di cui è parte ed elaborazione del Dio che cresce dentro di lui questo è il dibattito che abbiamo ottenuto qui a Radio Gamma 5 sulla contemplazione naturalmente io qui mi sono limitato a leggervi la traccia in realtà qui a Gamma 5 c'è stato il dibattito con le persone presenti che chiaramente interloquivano su quanto su quanto stavamo a dire bene questo era tutto sulla contemplazione sulla pratica della contemplazione il fatto che manchino delle persone ad interloquire cioè che sia fatto per radio come diretta esposizione e non che sia fatto in un dibattito pubblico chiaramente toglie moltissimo a quello che è stato il dibattito e qui a Radio Gamma 5 riprenderemo i dibattiti riprenderemo i dibattiti penso ad ottobre anche se prima saranno preceduti da una da una riunione in cui illustreremo con con un video quello che è stato il congresso di Anversa e illustreremo anche quelli che sono i riti con un video che abbiamo girato insomma adesso vedremo in ogni caso altri due dibattiti sono uno è pronto completamente un altro è quasi pronto e penso penso che andremo avanti in questo modo insomma bene allora visto che ormai siamo arrivati alla fine della trasmissione abbiamo qualche minuto vi ricordo il numero di telefono 049-600-700 049-600-838 allora vediamo un attimino cosa qualche notizia stampa che non abbiamo che non abbiamo usato oggi durante la trasmissione e ce n'erano parecchie in realtà la beh c'è l'assassino l'assassino diciamo così del fondatore di Tai Z beh là ci sono alcune cose che non sono ben chiare ma comunque lasciamo lasciamo fare la polizia quelli che sono le sue indagini abbiamo un'altra notizia su Londra suore contro il codice da Vinci proteste davanti alla chiesa che ospita il set è una notizia del 18 agosto 2005 della Repubblica abbiamo tutta una serie Argentina lo scandalo del vescovo gay in un filmato con un giovane di 23 anni è una vendetta politica è un articolo che è perso la Repubblica il 22 agosto 2005 questo articolo è stato completamente censurato per esempio del gazzettino questa notizia mentre altri giornali sono limitati dal trafiletto qual è il vero problema il vero problema non è tanto la lotta politica per i quali gli avversari del vescovo lo hanno incastrato brutalmente attraverso un video dei suoi rapporti gay che aveva il problema è della vigliaccheria con cui i cattolici manifestano dei principi morali agli altri e a se stessi si lasciano la libertà di fare qualunque cosa cioè questa aberrazione morale è il vero disgusto che in realtà c'è per distruggere quelli che sono i diritti civili e i diritti delle persone fratellità guarda caso questo vescovo questo vescovo argentino joan carlos macarone è stato costruito a dimettersi e il vaticano e il vaticano ha accettato qualche giorno fa le sue dimissioni guarda caso si viene a dimettere questo vescovo quando viene incastrato a livello politico con un video in compagnia di una persona che ha 23 anni cioè praticamente è un semplice rapporto omosessuale e il vaticano e si dimette per la vergogna ebbene questo stesso vescovo nel 1996 macarone dirige una piccola diocesi e arriva la prima denuncia per abusi sessuali cioè quando questo vescovo ha fatto degli abusi sessuali nel 1996 non viene costretto alle dimissioni quando questo vescovo viene trovato con un rapporto gay normale che non porta via niente a nessuno che non fa abusi a nessuno viene invece costretto a dimettersi questa è la doppia morale che viene praticata un po' da Voitila e da tutti i suoi scagnozzi rifletteteci attentamente l'importante è riuscire a stuprare per Ratzinger e Voitila l'importante è riuscire a stuprare i bambini un'altra notizia che arriva da un altro vescovo questa invece è dall'Italia Monsignor Favale vieni vieni Stefano ciao Monsignor Favale sotto accusa per il restauro del monastero si è fatto ritrarre sulla facciata della Curia il vescovo col ristorante in parrocchia ha truffato nei lavori processati nel Vallo della Lucania a giudizio l'ex segretario di Giordano e il signore è stato rinviato a giudizio e verrà processato c'è sempre la solito cosa del crocefisso perché Ratzinger vuole costringere che gli italiani vengano meno al dettato costituzionale e vuole costringere a mantenere il crocefisso in modo da stuprare le persone costringendole in ginocchio davanti ad esso e questa è una polemica che ormai andrà avanti andrà avanti anche parecchio fin quando lo Stato non riuscirà a rivendicare il proprio diritto alla propria laicità bene io chiudo qui la trasmissione di magia stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo dove continueremo ancora con varie cose finito il discorso sulla contemplazione andrò avanti con altri discorsi un po' alla volta e naturalmente questi discorsi sugli altri dibattiti li intervallerò con vari articoli di stampa che stanno uscendo e sono usciti e che ho insomma vi ricordo il sito http2.com www.federazionepagana.it sto caricando tutto quello che è caricabile e da quella pagina contati potete anche andare sul sito federazionepagana.com dal quale potete ascoltare tutte le trasmissioni radiofoniche che vengono sistematicamente caricate per cui questa trasmissione già domani o comunque nel giro di pochissimo tempo la trovate caricata in internet e la potete scaricare o riascoltare come volete bene vi ricordo io sono Claudio Simeoni meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo vi do appuntamento per giovedì prossimo e intanto vi saluto ciao a tutti